E domani si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale del sonno, questo appuntamento nato nel 2008 proprio per sensibilizzare sui disturbi del sonno. Noi siamo collegati con il professor Luigi De Gennaro, ordinario di psicologia all'Università La Sapienza di Roma e segretario dell'Accademia Italiana di Medicina del Sonno. Buongiorno, benvenuto, grazie professore. Buongiorno a voi. Allora, domanda d'obbligo, che cos'è il sonno e che cosa succede nel nostro organismo quando dormiamo? Il sonno è evidentemente un bisogno fondamentale dell'individuo per il corpo ma soprattutto per la mente. Che così sia ce lo dicono tante cose, la prima, la più importante e anche la più banale. Trascorriamo un terzo della nostra vita, quindi pari all'attesa vita di media, a circa 30 anni dormendo. Evidentemente segnala qualcosa di fondamentale per l'individuo. Che cosa succede? Non è facile sintetizzare, ma è evidente che tutto cambia nel sonno. Cambia la neurochimica, cambia, ma questo è banale, il riposo del corpo, ma cambiano i sistemi cardiovascolari, digerente. Sostanzialmente è come se fosse un mondo a parte, diciamo così, il mondo del corpo e del cervello che dorme. Con delle sue peculiari regole, che poi sono quelle che noi studiamo oppure su cui noi interveniamo quando o abbiamo a che fare col sonno normale o abbiamo a che fare col sonno patologico. Ed è di tutta evidenza allora, professore, che esiste uno strettissimo legame tra il sonno e la salute fisica. Assolutamente sì, senza lanciare messaggi inutilmente terroristici. Però gli studi negli ultimi anni documentano in maniera molto chiara come la presenza di un disturbo del sonno o al contrario la presenza di una cronica restrizione del sonno si associ come rischio in futuro a una lunga serie di quadri di salute. Malattie neurodegenerative, in primis l'Alzheimer, diabete, disturbi cardiovascolari, disturbi immunitari. Ripeto, senza allarmare perché si chiama fattori di rischio per il futuro, però sostanzialmente segnala ancora più il bisogno di in qualche modo proteggere il sonno quando è sonno normale o al contrario di trattare efficacemente e tempestivamente quando siamo in presenza di un disturbo del sonno. Professore, ci sono dei fattori ambientali anche di stile di vita che possono influenzare la nostra qualità del sonno? La risposta immediata certamente sì, prendiamola così, sostanzialmente quasi un italiano su due prima o poi nel corso della vita ha quella che si chiama insonnia acusa, insonnia a breve termine, minore di tre mesi. Ma più rilevanti clinicamente ci sono persone che hanno in misura di uno su sette, uno su otto, un'insonnia cronica. Tra i fattori, l'insonnia cronica ovviamente con una durata maggiore di tre mesi, e l'altra è proprio patologica, tra i fattori che sono alla base dell'insonnia cronica, in primis rientrano proprio gli aspetti di vita, cioè gli stili di vita e le condotte che noi abbiamo. Non è un caso che le raccomandazioni internazionali, nell'approccio al paziente con l'insonnia, raccomandano trattamenti esattamente finalizzati a modificare abitudini e credenze verso il sonno. Faccio un esempio così ci capiamo. Un'appropriata credenza. Alcune persone, alcuni pazienti con disturbi del sonno, avendo problemi notturni, schiattano il sonnellino diurno. Evidentemente è una strategia ingenua, non riesco a dormire la notte e almeno dormo durante il giorno. In realtà con questo tipo di credenza e poi col comportamento che mettono in atto, tendono a cronicizzare il disturbo. Perché? Perché il meccanismo di sonno, che già è problematico di sua impartenza, viene reso ancora più fragile dalla parziale soddisfazione del bisogno di sonno nel sonnellino pomeridiano. E lì paradossalmente una buona intenzione, il sonnellino pomeridiano, esita in qualcosa che va a cronicizzare il disturbo. E allora, professore, qualcuno direbbe che bisogna ingannare il cervello. Leggevo da qualche parte, ora non so se è un'espressione, diciamo, idonea per certificare questo tipo di situazione che le descriveva. Le vorrei chiedere allora come si affronta l'insonnia. Guardi, il criterio è molto semplice ed è per certi versi sorprendente. Mentre per le insonnie a breve termine, quelle che prima o poi tutti quanti incontriamo nella vita, prima dicevo un numero apparentemente spaventoso, una persona su due prima o poi nella vita incontrerà un problema di insonnia. Le raccomandazioni internazionali dicono molto chiaramente la scelta è quella farmacologica. Però a breve termine, visto che parliamo di insonnie acute, nel caso delle insonnie croniche, le raccomandazioni internazionali danno come indicazione quella di usare i cosiddetti metodi cognitivo-comportamentali, strategie di modificazione delle credenze e dei comportamenti fatte da appropriati professionisti. Ecco, domani è la giornata mondiale del sonno, professore. La giornata è promossa contemporaneamente in ogni parte del mondo dalla World Strip Society e in Italia dall'Associazione Italiana di Medicina del Sonno. Ci sono eventi e iniziative per la giornata di domani che avete promosso? Beh, direi di sì. Una, mi permetto di dirlo, che personalmente organizzo ormai da sei anni, è quella che abbiamo chiamato la maratona del sonno. Tutti gli esperti italiani, dalle 8 di mattina fino alle 20 di sera, ovviamente in relazioni di mezz'ora a ciascuno, faranno una specie di staffetta ideale in cui, in streaming, che andrà su piattaforma dedicata, sul canale YouTube dell'AIMS e sul canale Facebook, per celebrare la giornata. In questo caso specifico, il tema della giornata è quanto le disuguaglianze pesano sul sonno, sui disturbi del sonno e sull'accesso alla salute. Oltre a questo evento, che è importante, chi fosse interessato tra gli ascoltatori, segnalo, potete andare al sito della società sonnomed.it e lì ci si può iscrivere, oppure, se non ci si può iscrivere, gratuito ovviamente, si può seguire sul canale YouTube, di nuovo digitando e cercando il canale YouTube dell'AIMS, l'AIMS è l'abbreviazione di Accademia Italiana in Medicina del Sonno. Oltre a questo, in tutta Italia, la rete dei centri del sonno si apre sostanzialmente al contatto con i pazienti, laddove richiedono, in qualche modo, di avere una conoscenza di come funzionano i centri del sonno, che tutto sommato continuano a essere ancora poco conosciuti in Italia, anche se distribuiti abbastanza in tutto il territorio nazionale. E quindi potrebbe essere anche un modo per cercare di risolvere le cosiddette insonnie o disturbi del sonno, rivolgersi ai nostri esperti, che sicuramente ne sanno più di noi e ne sanno di più di dottor Google, come qualcuno chiama quando si va a fare una ricerca in maniera errata su Google. Grazie, grazie professor De Gennaro per essere stato con noi. Grazie a voi. E buona giornata del sonno per domani, buon lavoro. Grazie a voi.